avete seguito l'episodio precedente io vi dico solo che quanti giorni sono passati da quando l'abbiamo registrato due un paio di giorni non so quando pubblicherò questo video sono due giorni che stiamo litigando perché hai mai fatto un'infamata di quelle clamorose barra assurde allora non ci casco più detto questo bentornati e ben ritrovati in questo nuovo episodio di tiki takato il tris del calcio ci sfidiamo l'obiettivo iscritti per avere immediatamente un nuovo episodio domani stesso lo avete visto all'inizio di questo contenuto c'è un secondo modo per provare ad ottenerlo 8000 mi piace su questo video entro la mezzanotte ragazzi arrivamo sempre pelo pelo mancano sempre quei 400 500 mi piace a mezzanotte agli 8000 se ci riuscite oppure con l'obiettivo iscritti che secondo me è ancora più facile domani subito nuovo episodio avere un episodio giornaliero dipende tutto da voi ed è gratis farlo abbiamo salutato e risaluto ciao iscrivetevi a tutti e due i canali youtube che abbiamo per non perdervi neanche un contenuto calcistico abbiamo anche un canale youtube extra calcio dove pubblichiamo cose molto particolari canali in descrizione o compariranno qui durante il video oggi cambieranno un po di cose ci saranno delle regole preparatevi ma prima di continuare devi consigliare assolutamente loro un modo completamente gratuito per seguire il mondo del calcio passate sul link in descrizione ragazzi e correte a scaricare one football la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio statistiche notizie curiosità notizie soprattutto di calcio mercato di sto periodo risultati delle partite in tempo reale highlights delle partite di serie a di serie b di serie c vi fanno vedere le partite dei campionati esteri cioè applicazione più completa per gli amanti del calcio non esiste se ancora non ce l'avete io mi chiedo veramente che cosa state aspettando ci mettete tre secondi della vostra vita se c'è da connessione lenta forse cinque la scaricate gratuitamente dal link in descrizione siamo sicuri che non ve ne pentirete detto questo vado prima su same screen faccio play no adesso ti è prendi il telefono con il timer abbiamo deciso di mettere come se fosse una sfida online nel senso se andate a sfidare online altri utenti che non conoscete c'è il timer di 40 secondi ma se vuoi fare una sfida tra amici no in che senso tra amici tu vuoi sfida a me solo che non stiamo nella stessa casa per dirti sì se stiamo da un'altra parte ok c'è il timer che parte in automatico penso che si possa fa sarebbe ancora più semplice no non sono sicuro poi se ti ho detto una cavolata comunque verificheremo tu fai partire il timer ma io oggi però direi di fare di alzare l'asticella perché l'altra volta ci siamo dimenticati non abbiamo fatto without steals e non abbiamo fatto european league quindi adesso ci scaldiamo su serie a without steals e poi magari facciamo una serie a with steals e poi facciamo european league facciamo un po più misto vince chi arriva primo a due come al solito detto questo allora e no prima di carta forbici per il polpettone per chi comincia 3 2 1 comincia lui comincio io without steals 2 1 via no c'ho l'ansia ma così sei molto più mamma mia ok lo a 0 ok interrompi 40 secondi vai fa però devi entrare nello schermo si scusatemi mai è più difficile così va diego forlan ci sei andato pelo pelo e raso raso è interrompi via allora un uruguaggio del milan e devi guarda il tempo di continuo ragazzi mamma mia che anzi no 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 perché poi scade preferisco vederlo un uruguaggio del milan un uruguaggio del milan ruguagliano del milan ruguagliano del milan ruguagliano del milan era un mamma mia ragazzi miei l'ho indovinato l'ho indovinato l'ho indovinato l'axalt vai un ex verona empoli un ex verona empoli se voglio fa quello sei costretto in teoria perché se io lo so vinco ma tu non lo sai 4 secondi intanto mettiamo qua poi se te va in mente vai allora mamma mia ex verona ex empoli aiuto per favore termina con pareggio eh c'ho 16 secondi allora 14 io intanto metto quello che so ah io proprio avevo usato tutti i 40 secondi ma che adde adde insomma certo vai puoi anche propormi il termina con un pareggio io posso anche ipoteticamente accettare già l'avevo detto prima sì però se lo sapevo e quindi ok io pure questo uso dai smai di buonasera sì ma stiamo proprio a una se stiamo arrampicare sugli specchi entrambi quello che ti sto dicendo se vuoi terminare con un pareggio interrompi anche perché ci siamo fatti tutte le nostre possibilità l'unico modo che fa tris per te c'è sta ancora e tu devi fare tutti e tre quelli e tu devi fare tutti e tre quelli avvia 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 perché non mi ricordo l'ex verona e empoli sarebbe perfetto ragazzi sarebbe perfetto chiuderei la partita io vado a caso c'è d'inda però alla roma c'è stato al verona c'è stato al verona si ho fabbiato per me intanto no no riavviano se non sei questa se entra da questa io te lo propongo termina con pareggio poi fa come te pare perché non lo dà? non lo so vabbè tranquillo te lo interrompo un tipo non me lo dà vicario ok per me se può termina con pareggio la termina però voglio vedere ragazzi no io sono curioso ragazzi no non so non ho idea proprio ma guarda ma esce un nome semplicissimo si no pure i nomi improbabili si ma c'erano 33 possibili mi hanno spiegato perché io non lo sapevo si caseras ok ma a me non era utile eh si buonanotte luci però c'erano 33 giocatori te mette uno difficile cioè erano tante le combinazioni siamo stati in grado ma sei sicuro? si si mi hanno spiegato sono sicuro che quello che non è il numero di maglia del calciatore eh allora facciamo play again eh però come si fa per le stills no mi sa che bisogna fare così no dobbiamo tornare indietro certo no però non abbiamo aspetta facciamo play again certo ancora dobbiamo terminare la sfida esatto la dobbiamo terminare la sfida tocca a te vai tocca a me certo tocca a me fabbio cogliarella vai oh ma tu sempre su peruzzi vai le tanti ex e allora che ne so io qua mamma mia ragazzi no col timer qua è help 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 ex Lazio ex Lecce io l'unico che so 10 no col timer però non si può giocare dai su mettene una col timer è difficile fa eh lo so che è difficile è fatta apposta cioè sono stato costretto a metterlo la pur da tappare la casella io Lazio Lecce manco lo so cioè mi sembra di ricordarmene uno solo eh mi ricordo biava vai tocca a te te lo propongo chiudiamo con un pareggio si per me va bene no perché tanto le altre combinazioni sono difficili non me le ricorderei vediamo questa è stata una partita proprio raga eh sarà che l'ansia del timer probabilmente sarei stato molto più tranquillo eh lo so ma non è facile cioè elasticità aumenta palmi floro flores basta quadrato non erano facilissimi alcuni erano facilissimi però comunque 50 50 cioè ce n'erano tantissimi siamo ancora sullo 0 a 0 eh e vai tocca a me sempre a te ancora non abbiamo fatto uno ok interrompi e abbia per me vai allora tu sei andato sul centrale si e io senti vado qua mm vai oilunt ok vado io siamo anche abbastanza veloci eh allora mamma mia comunque non è facile manco questa eh no per niente io purtroppo sto a finire il tempo qualcosa è andato sul sei andato sull'inutile sì però almeno non lo spreco letteralmente un turno me serve in belga dell'Atalanta un bel oh cala timo di castagna è vero vai me serve in belga dell'Udinese un belga dell'Udinese un belga della Juve 15 no no un belga dell'Udinese dai è facile 5 2 eh scatuto il tempo passa schippa vai lo sai? e via fammi autorizzassi i 40 secondi fammi vedere che ci esce fuori no normalmente manca a me chiudiamo con pareggio si per me si eh raga guarda che la serie A non è facile è molto secondo me è molto più semplice con le robe perché c'è più è una questione di memoria fa eh lo so è semplicemente una questione sì dai Devinter cinque ce n'erano cinque ce n'erano cinque ce n'erano sì Renard Sforzini e Devinter questi non erano proprio facilissimi eh figurate allora via vado sei andato sul facile eh ho capito fa eh alcune sembrano semplici ma non lo sono non lo sono per niente non lo sono eh eh io ho un vuoto da memoria clamoroso te lo dico ma poi sono i secondi che fanno la differenza mi metto l'unico che so perché ne manco e mi sono sbagliato un'altra volta è vero vai avevo fatto già lo stesso errore una volta eh Simone Verdi ok avvia Torino e Cremonese ma a me non mi aveva in mente neanche Atalanta Juve ma che ho fatto non mi aveva in mente lo spagnolo da Juve te l'ho detto è il timer che te mette ansia da prestazione non capisci l'hai voluto fa te certo non c'è tempo di ragionare è inutile non c'è tempo di ragionare proprio vai ti ripasso il turno fa skip perché sta a fa col mio ci provo Meite Milan Cremonese e Torino 1 a 0 per me si 1 a 0 per te adesso facciamo live game si lo rifacciamo ma si è in preseria steels però facciamo una con wheat steels ok e vediamo che cosa succede vai tocca a me adesso si mamma mia vabbè anche troppo facile interrompi questo è poco questo è poco altro faccio ok fei taglia rompi avvia interrompi avvia interrompi avvia vai interrompi avvia il problema è rubate uno svedese del milano che non c'è ebraimovic non c'è mamma mia no ma hai fregato vai tocca a te mamma già sono passati 5 secondi 4 non lo so non lo so troppo troppo tempo troppo poco tempo eh vabbè metti ah no vabbè vai ah si devo fa skip nooo uno uno è un modo diverso del giocattrice però eh sì questo sì è un modo diverso eh c'è un modo diverso eh c'è un modo diverso sì perché poi io mi trovavo là in mezzo e avrei dove mi frega uno stavo a pensare uno spagnolo del torino mi era venuto in mente perotti ma perotti argentino ma perché ha giocato con torino tra l'altro così così ehm quindi siamo sul punteggio di 1 a 1 io farei il lead game sì facciamo l'european facciamo un european e vediamo che succede vai quindi faccio play without io direi non complichiamoci troppo la vista l'abbiamo fatta uno vai allora vai ok avanti avvia allora intanto andiamo vai proprio sulla si proprio sulla semplicità più totale è andato è andato io vado sulla semplicità eh senza scrivi K fu con la K te immagini vai vabbè questo l'abbiamo già fatto praticamente ok andiamo avanti allora devo pensare ok vai ok lo spagnolo del Liverpool vabbè basta finita con pareggio finita con pareggio finita con pareggio cago argentino beh ma meno male guarda voglio anche per chi ciò si 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 play again tocca a me vai mamma mia ragazzi allora ok ok vai vai ma perché non ti ha segnato il punto ah no perché siamo usciti ma quanto siamo? 1 a 0 per te 1 a 1 ah 1 a 1 quando ho fatto io? ah si all'inizio blocchiamo subito sul nascere ogni velleità ok capirei? vabbè regà ti ho detto che è più bello questo qua perché le soluzioni ce l'hai non te mancano si PSG City PSG City Gabriele 30 secondi questa l'avrei indovinata senza il timer questa senza timer l'avrei indovinata tutta la vita si ma io posso in te mettere pure il Liverpool Brasile ah beh no mamma mia però non me lo dovevi suggerire ti avrei regalato la partita ti avrei regalato lo so non me lo dovevi suggerire non ci stavo a pensare dai su mi sei voluto rifare dell'infamata che secondo te avrei perpetrato la scorsa volta se provo vai 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 ti do 10 secondi in più perché sei stato a parlare senti tanto naso non mi va in mente manca me ma poi qua chi vince cioè chi apia vince compra talmente tanti giocatori 4 niente niente e fammi fare lo skip che tocca a me ma tu te pare che si doveva arrendere qua adesso in questo momento no sto piano toppata con la morosa no niente ma rende guarda te lo dico prima di cominciare se non indovino questo cioè se non riesco a ricordarmelo finisce con pareggio come la vedi? io no vai su secondo me ce ne stanno a grappoli ma proprio a grappoli io ce l'ho un nome cioè mi ricordo una trattativa però non mi ricordo chi è non mi va in mente non mi va in mente manca me niente peccato perché è stata tiratissima questa io mi ricordo un terzino destro non so perché c'ho sto pallino destro terzino destro olandese Thuré ah Thuré ma chi è Thuré? ce ne stavano sei ce ne stavano sei ma non si può cliccare per vedere tutte le altre soluzioni no no non te lo fa vedere vado va 3 1 vai vai zitto che c'ho un vuoto totale c'ho un vuoto completamente totale 7 l'intelligenza rimette stamma? si effettivamente ho messo quello che mi ricordavo anche i calciatori ma hai vinto proprio Fabio non stavo guardando i me ne so accorto me ne so accorto me ne sono accorto non era non era facile era difficile questa era una sfida veramente tosta questa è stata difficilissima comunque col timer veramente entri in un'ottica di ansia che il doverti ricordare il calciatore col poco tempo a disposizione e la componente strategica del gioco del triss una delle due viene sempre meno una delle due viene sempre meno perché dici c'ho poco tempo a disposizione o penso a come fa il triss a come fregarlo per bloccarlo oppure pensi al calciatore quando non lo sai è tostissima ci dobbiamo allenare ovviamente questa era la prima volta l'ha spuntata il buon Fabio vi ringraziamo per la visione di questo contenuto sapete gli obiettivi per sbloccare domani stesso un nuovo episodio grazie per la visione con un nuovo video ciao ragazzi ciao riga